la differenziata. Eccoci, siamo in onda, ha fatto un bel sorriso. Allora, cominciamo col menu. Allora, numero 1 del Presidente, un nuovo testo, concessione del patrocinio e l'uso del logo della Regione Liguria di iniziative varie. Numero 5, Presidente, modifica la tabella legata al regolamento regionale 2 del 2011, definizione dei termini di procedimenti amministrativi di competenza della Giunta. E la numero 6, il maggioramento della tabella, sempre del regolamento, approvato con DGR nel 2016 del 2011. Presidente numero 8 e Assessore Scaiola, decreto 227 del 27 agosto 2015 dell'Arte di Savona, concernente il bilancio costitivo dell'esercizio 2014, determinazioni conseguenti. Sì, questo è lato dovuto, però vorrei aggiungerti questo, Presidente, perché è il bilancio costitivo dello scorso anno, che chiude male, che chiude con circa 195 mila euro di perdita. Noi nella delibera abbiamo messo una serie di indicazioni e prescrizioni, tra le quali vorremmo anche sapere entro 30 giorni i provvedimenti che Arte di Savona intende adottare per ripianare questo buco che è particolarmente negattivo. Allora, la novella 10 dell'assessore Berrino Rignani, numero 11, Assessore Cavo, finanziamento a favore della città metropolitana di Genova per completamento impegno di spesa otterente, attività sformative avviate e conclude entro il 30 giugno 2015 nell'ambito del catalogo regionale apprendistato professionalizzante di mestiere, impegno di euro 541.407 euro. È preciso soltanto che sono soldi che erano già arrivati dal Ministero del Lavoro, incassati dalla Regione, disponibili in relativo capitolo di bilancio e si va a finanziare a città metropolitana per l'attività per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per i giovani rivolti di età compresa, scusate, tra 18 e 29 anni. Si tratta di attività già tutte concluse e anche da tutte rendi contatti, quindi è un passaggio di un passaggio formato. Mi raccomando, è una programmazione di 2016-2020, cerchiamo di dare un ritorno, una redemption di tutti i corsi di formazione che sono stati fatti in questi anni prima di... Adesso ho chiesto ad Arsene lo studio specifico e l'ho chiesto anche se mi aveva qualche risorsa aggiuntiva. Ho chiesto qualche risorsa aggiuntiva della vecchia programmazione che possiamo usare per far fare una ricerca mirata con l'agenzia che aveva l'integno, quindi ho detto che una parte di quei soldi usino per fare una ricerca mirata. Ho detto per non buttare quattro anni di soldi in corsi che non hanno portato a nessun aumento dell'occupazione. Sui terrenali me l'ha già data Arsene e si vede chiaramente, la metà ha funzionato e la metà no. Su quelli possiamo già farci un problema. È valido dublicemente se esiste in italiano, cioè l'argomento del corso è la capacità di realizzazione dello stesso da parte dell'appartante. La cosa incredibile è che non c'erano dati di osservatori reali e sul progresso, quindi che lo dovete far fare adesso? Ci vuole che stanno, entro fine mese mi arrivano tutti sull'Italia, e poi dobbiamo, e quello più l'incrocio con le incontri e con le aziende dovrebbe farci fare un po' più di match. Va bene, era solo una raccomandazione generica. Il numero 12 dell'assessore Gianpedrone, modalità di partecipazione regionale alle conferenze dei servizi. Il segno è l'articolo 29, quater e 208 dell'equetto legislativo 152 per il rilato di autorizzazioni alla realizzazione e gestione di impianti nella materia della gestione dei servizi. Sì, siccome noi veniamo sempre convocati da queste assemblee, ma non avevamo ancora un regolamento che specificasse chi doveva andare in nome e per conto della regione, andiamo a individuare nel settore, ovviamente, aria, clima, eccetera, la figura che parteciperà con parere, con possibilità anche di rilasciare pareri in merito alle pratiche. Il numero 13, il viaggio dell'assessore Gianpedrone. Il numero 14, l'assessore Gianpedrone, FARA FSC 2007-2013, linea di azione B1, progetto 3, regimazione idraulica, tratto terminale, nerbia, approvazione sottoscritto durante lo schema di accordo di programma, impegno di armi, anche col prefino a conduta precedente. Impegno di armi 2.625.000, definizione delle modalità di erogazione. Iniziano ad arrivare i progetti FAS, ex FAS FSC che abbiamo rimodulato da ultima rimodulazione, quindi questi sono quelli che hanno un iter più definito e mano a mano li porteremo in giunta. Questo è il Mervia per un progetto che opera, ammontano a 4.125.000 Euro che verranno finanziate con il mutuo per 2.625.000 Euro e 500.000 Euro che erano già stati precedentemente impegnati e liquidati con la DGR nel 2009. Quindi questi sono quegli interventi che devono avere un affidamento del lavoro entro il 31-12. Noi faremo una prima verifica al 15 ottobre, quindi fra pochi giorni, per capire rispetto alla rimodulazione approvata che cosa sta andando nella direzione, diciamo, di positiva della scadenza del 31 dicembre e cosa invece è necessario. E eventualmente riproporremo un'ultimissima rimodulazione sull'esistente rispetto a quello che abbiamo lasciato fuori. numero 15, Assessore Gian Pedrone e Presidente, Paracel SC 2006-2013, interventi di messa in sicurezza della viabilità esistente di collegamento tra i centri abitati del Comune di Taggia, di Castellaro, Imperia, secondo l'otto di completamento, impegno di Euro 642.922.000 Euro. Se questa è una viabilità minore, sempre con lo stesso concetto di prima, in questi comuni vi porto di un intervento a monta a 804.000 Euro, 642 sono finanziati sempre sul mondo regionale e 161 è il finanziamento del Comune di Castellaro, che ovviamente sapete che tutti qua sono tutti i progetti che hanno un minimo di finanziamento del 20%. Poi il numero 16 dell'Assessore Mai. Regolamento Unione Europea e Decreto MIPAS, numero 1213 del 2004, modifica della deliberazione 1517 del 16 dicembre 2011, in materia di biossiere e diritti di reimpianto di supercrici di Cate. Sì, qua parliamo di vigneti e questo atto consente a tutti i produttori di uva da vino della Liguria di utilizzare diritti di rimpianto, che sarebbero praticamente diritti acquisiti da l'estirpazione di vine non ancora rimpiantate e questo deve essere fatto assolutamente entro fine anno. Negli anni molti hanno estirpato le vine e poi per diversi problemi non le hanno rimpiantate. Questi diritti sono rimasti fermi in un contenitore, diciamolo così, ed ora l'Unione Europea ci obbliga a chiudere questa partita entro fine anno. Dopodiché questi diritti non potranno più essere utilizzati. È come una sorta di quota vigneti. Quota la scorre latte, esatto. Noi abbiamo questa opportunità e quindi in questo modo qua, tra l'altro la procedura prevede ancora l'attivazione di un pseudobando con definizione di criteri anche per individuare chi potrà avere diritto a questi diritti di rimpianto. Quindi sicuramente sarebbe stato bene farla molto tempo fa questa delibera, però siamo arrivati adesso. Siamo un po' lunghi ma gli uffici stanno lavorando, stanno correndo per cercare di risolvere questo problema. Quindi poi di fatto entro il 31 dicembre ci sarà la chiusura di questa istruttoria e poi ci sarà il tempo fino al 2020 per convertire le autorizzazioni in... insomma, potranno entro il 2023 preimpiantare in sostanza. No, entro... Non basano i diritti acquisiti così come spartiti. Mi raccomando il PSR, eh? Ci abbiamo qua, oggi. Ci abbiamo? Ci abbiamo fuori sacco. Bene. Già, sostanzialmente. Sì. Non fa nulla, non dire qua. Adesso farei tanto. Sì. Allora, numero 17, assessori Rixi e Gian Pedroni. Approvazione schema di accordo di programma cluster tecnologico nazionale tecnologie per le smart e community. Io però non ce l'ho qui, quindi vado però approvata, nel senso che ho firmata con Rixi, ma nel senso che la doveva elencare lui, quindi assolutamente sì. Non credo che ci imbrò di Rixi, però... Andiamo a sentire, mettere un attimo dietro, vediamo se lo vuoi riportare... No, vabbè, vediamo un attimo, magari. Non so se ne va. Beh, ma a noi va bene, nel senso che... No, a noi la devo approvarla, se la vuoi portare oggi o se la vuoi spiegare lui in giunta, se no gliela approviamo qui. E anche la 18, sempre a firma congiunta, assessori Rixi e Berrino, approvazione e convenzione tra Regione Liguria e Ministero di Infrastrutture e Trasporti, il protocollo di intesa tra Regione Liguria e i comuni interessati per l'attuazione del progetto Mobilità Sostenibile di Genova e Savona, con l'inferno di schede di al 230.000 a 300.000. La possiamo anche approvare in diretta. La possiamo approvare in diretta. Il numero 19, assessore Scaiola, comune di Bordighera, Imperia, conferenza di servizi ex articolo 59, legge internazionale 36 del 97, articolo 80 e 81 della legge regionale 11 del 2015, per approvazione di due su ad iniziativa privata relativi alla zona C3, sotto zona 1-3 invariante al piano regolatore generale e al C2-C2. Allora, con questa delibera approviamo appunto il suo a strumenti urbanistici e abattivi di due zone sopra Bordighera, Torre Sapergo e località Colla. Che cosa verrà realizzato? Su località Torre Sapergo, un nuovo albergo da 51 camere circa, e 9 edifici residenziali per 18 alloggi di destinazione turistica. Invece nel suo, in località Colla, sono 4 edifici residenziali. Questo sviluppo urbanistico porterà poi il comune di Bordighera, quindi a poter realizzare un nuovo parco pubblico, parcheggi pubblici e 4 appartamenti di natura erb. C'è il parere favorevole della sovrintendenza del 22 settembre 2015 e adesso, con questa nostra approvazione, passerà al comune di Bordighera a organizzare la compresa di servizio liberante. Numero 20, Assessore Scaiola, istituzione della Commissione regionale per il rispetto della normativa sull'accessibilità delle aree dei magnani marittime da parte delle persone disabili. Allora, sì, questa nasce dai confronti con la realtà dei portatori di erdica. Sapete che ci sono delle normative regionali, non solo per l'accessibilità del risabile alle zone amare. Noi quindi portiamo la delibera, dove diamo anche alla approvazione di questa commissione, composta da interamente persone interne alla regione Liguria, e quindi non ci sono nomine che ne hanno presi all'esterno, sono nomine nostre, quindi non hanno neanche alcun costo, e deve essere solamente per avere un confronto con la realtà dell'associazione di erdica di erdica di erdica di erdica in maniera adeguata. Il numero 21, il disegno di legge dell'assessore Gian Pedrone, il disegno di legge contenente misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e della riciclatura. Questo è il disegno di legge che aspettiamo da tempo. Dunque, noi partiamo da un piano dei rifiuti che è stato approvato dal Consiglio regionale il 25 marzo 2015, che poneva tra gli obiettivi del piano il rapido incremento della raccolta differenziata, che è un elemento imprescindibile, l'abbiamo sempre detto, per raggiungere quegli obiettivi anche di recupero che sono fissati dall'europeano. Cioè, quanto andiamo a recuperare dei differenziati. Sappiamo che noi siamo ad una percentuale di differenziata a livello Ligure molto bassa, siamo sotto il 35%, con picchi negativi come Genova, che addirittura va in declino sul 2014, che è sotto il 33%, e quindi abbiamo deciso di affrontare questo disegno di legge che farà il suo Inter, che pone come obiettivi sostanzialmente due criteri. Il criterio entro il 2016 per tutti i comuni, a fronte del fatto che devono presentare alla Regione un piano entro marzo 2016 di come fare per incrementare, per raggiungere questo obiettivo entro il 2016 del 50% di differenziata rispetto ai loro territori. Per quanto riguarda invece l'obiettivo che andava raggiunto già nel 2012, quindi noi non è che stiamo facendo una cosa in prospettiva rispetto a un qualcosa che deve ancora scadere, siamo abbondantemente scaduti. Spero di recuperare il tempo giusto. Esattamente, andiamo al 2020 come termine massimo e bisogna raggiungere la cifra prestabilita di percentuali che è quella del 65%. Qual è la novità di questo intervento? Non è che solo noi imponiamo. A, diciamo che i comuni che non riescono a raggiungere i limiti che noi ci siamo, contribuiscono ovviamente su un fondo che andrà poi a contribuire automaticamente a tutti quei comuni che devono crescere nel rapporto tra la loro raccolta differenziata e le percentuali raggiunte, a raggiungimento dell'obiettivo dell'atto regionale considerato ovviamente come insieme di vali. Quindi da il 31-12 del 2016, coloro i quali non avranno raggiunto la percentuale prefissata, avranno una quota di contributo da sostenere, ovviamente a carico di tutta l'atto regionale, che noi riutilizzeremo per far progredire tutto il sistema. Quindi da oggi i cittadini sanno che i loro sindaci si devono da oggi, da quando questo provvedimento diventerà eventualmente legge, sapranno che i loro sindaci, che non hanno ancora raggiunto le percentuali prestabilite, se ne sono anche alcuni che hanno già raggiunto invece abbondantemente le percentuali che noi fissiamo, devono lavorare a questo scopo. Siccome ci sembrava di imporre e basta, ma voglio dire una cosa limitativa rispetto invece a un percorso che anche la regione vuole fare, il Presidente di Concordo con gli uffici del bilancio ha deciso di stanziare per il 2016, che è l'anno ovviamente che ancora non troverà alcun tipo di finanziamento dai comuni stessi che arriverà dal 2017 in poi, la cifra di un milione di Euro, con dei criteri che attualmente qua non vengono disposti rispetto a dispesa, a come verranno utilizzati, ma che lasciamo anche un po' ai lavori della Commissione, ai lavori del Consiglio rispetto ai margini, sottolineo che oggi chi è tra il 30 e il 45% fa sicuramente meno fatica con un piccolo contributo ad arrivare al 50%, chi è al 17 fa sicuramente più fatica ma bisogna anche chiedersi perché è rimasto al 17 a fronte di un sistema che ti imponeva comunque di raggiungere il 65 entro il 2012. Questo è una cosa che dico alla Giunta, dopodiché faremo le valutazioni necessarie e investiamo quindi sul 2016 un milione di Euro. Questo è il testo che andiamo a ratificare oggi sperando che l'iter di Commissione e poi di approvazione in Consiglia sia più breve possibile e soprattutto che non venga annaturato la sintesi del provvedimento perché mi sembra che l'intendimento del Presidente sia piuttosto chiaro rispetto a questo passaggio fondamentale. Alcune delibere fuori sacco. Allora, Presidente Assessore Gianpedroni accettazione della donazione della progettazione esecutiva del rinfacimento della copertura del torrente Misanno loco di completamento fino alla stazione di Genova-Briga. È così. A seguito della catastrofica alluvione che ha colpito Genova nell'ottobre del 2014 la Regione Liguria ha sollecitato attraverso un avviso pubblico la messa a disposizione mediante l'interrogazione liberale di progetti di rinforzioni nella realizzazione di opere pubbliche danneggiato e distrutto. La società Salini in pregino nel 2014 ha manifestato a propria volontà di donare questo progetto alla Regione Liguria la progettazione esecutiva del rinfacimento della copertura del torrente Misanno l'otto di completamento quello che è indicato in delibera. Oggi la società Salini dona materialmente la progettazione dell'argomento alla Regione che con questa delibera ne dispone l'accettazione e contestualmente ne ha per disposizione della medesima finché l'interrogare all'apparto dei lavori sia ufficiale da possibile evidentemente come capito si tratta di un segno importante per completare quell'arco dei lavori sul primo disagio che di qua al 2020 o poco più dovrebbero mettere in sicurezza l'area della forza e quella parte della città. ringraziamenti alla società Salini in pregino che ci ha che ci ha riunionato questo questo progetto esecutivo ora si tratta che non è sufficiente mettere a gara nel più breve tempo possibile ma date le indicazioni di priorità assoluta contro il dissesto che abbiamo anche dato della conferenza dei servizi il 22 dovrebbe essere la deliberante dopodiché ci sarà un altro passaggio del commissario per poter partire per la gara questa è un'opera che verrà realizzata con una parte di quei finanziamenti dei 275 milioni di taglia sicura penso si aggire intorno ai 90 milioni 95 molto bene si appena finisce la conferenza dei servizi noi addirittura abbiamo anticipato noi ci abbiamo già lavorato un po' subito professore Gianpegrone integrazione del primo piano di interventi per l'annualità 2015 provincia della Spezia strada provinciale 31 della Repa danneggiata ad eventi alluvionali pregressi impegni di euro 529 mila 425 16 derivanti dal maggior gattito dell'imposta regionale sulla benzina allora questa è noi abbiamo fatto un primo piano di interventi su strade provinciali di priorità Savona Imperia e Genova rimaneva fuori Spezia da quei milioni cento che avevamo già stanziato perché c'è questa strada che è chiusa ad agosto e che ha avuto notevoli problemi nel corso degli anni anche con una morte tragica di un operatore di polizia in una operazione di intervento appena riaperta la strada e che ovviamente era chiusa perché i movimenti franosi impedivano la sicurezza eccetera oggi noi interveniamo con 530 mila euro un confinanziamento di 205 da parte della provincia della Spezia per un stralcio di interventi che ci consentono se tutto va bene di riaprire la strada entro la prima settimana di dicembre a senso unico alternato e vincolata almeno all'alerte arancioni e rosse alla chiusura all'alerta gialla installeremo un pluviometro in modo che con la gialla non si chiuda qualora ci dovesse essere proprio su quel versante una intensità di pioggia tale da far preoccupare col tuo biometro che diamo però questa è una prima risposta dopodiché siccome abbiamo ritenuto anche di capire che la provincia sia carente progettualmente rispetto a quell'arteria che è molto importante da dopodomani ci sostituiremo alla provincia stessa che ricordo sempre che la competenza sulle strade provinciali è rimasta che se no sembra la vera ok progettualmente ci sostituiremo con IRE che è la nostra società appunto apposita per provare a trovare una soluzione definitiva che sarà anche una soluzione strutturale perché abbiamo visto nel tempo intervenire solo sul versante non ci consente quella garanzia di sicurezza perché quel versante è destinato comunque a movimentazioni nel tempo e quindi decideremo presumibilmente di fare un intervento modulato con anche qualche galleria esterna in modo che poi indipendentemente da quello che accade nel versante si possa essere in sicurezza una volta che avremo realizzato la progettazione cercheremo di trovare relativi finanziamenti però siamo convinti che lì bisogna fare un intervento definitivo perché anche questa riapertura parziale che sicuramente oggi dà sfogo poi risulterebbe insufficiente se non intervenissimo almeno una parziale risposta ai disagi esatto l'assessore Mai la proposta la proposta di atto amministrativo del Consiglio regionale regolamento Unione Europea 1305 del 2013 programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 meno dati se si è l'articolo 6,1 lettera B della legge regionale 44 del 1995 qui come avete visto non abbiamo perso un secondo stamattina è stata proposta questa delibera è difficile dire che ha lavorato davvero senza sosta per arrivare a questo traguardo tanto il PSR per la regione di Gure abbiamo già detto vale 313 milioni 720 di cui 53 milioni 600 rotti sono nella regione di Gure quindi insomma non sono denari solamente dell'Unione Europea ma sono denari anche nostri che impegniamo un po' da parte nella misura del 17% questo piano geopronale costituirà negli anni negli anni a venire fino al 2020 ma in prospettiva fino al 2023 perché c'è la regola del più 3 per concludere il punto di Gure eccetera uno sviluppo notevole chiaramente le indicazioni sono quelle dette anche dall'Unione Europea ora questo il passaggio in giunta è il primo passaggio ufficiale dopo il sigillo dopo l'approvazione finale della Commissione Europea venuta in data 6 ottobre successivamente anzi domani chiederò di calendarizzare la terza Commissione con l'ordine di giorno a questo piano e credo che non subirà ulteriori rallentamenti perché direi che siamo già arrivati al limite della sopportazione presumibilmente entro il fine mese andremo in consiglio regionale io credo il 27 insomma sarà il 27 potrebbe anche essere prima ma e quindi nella prima settimana di novembre potremo uscire con i bandi o perlomeno dare la possibilità di cominciare gli investimenti diciamo così cominceremo con un'apertura di bandi che andrà secondo siamo già in ritardo di un anno cioè un anno e mezzo cercheremo di impinguare questi primi capitoli per questi bandi proporzionalmente per diciamo per due anni prendremo la cifra destinata per due anni e li metteremo in questi capitoli e dopodiché insomma ci sono tutta una serie di azioni anche lo stesso all'istituzione del comitato di disorveglianza e vigilanza adesso mi ricordo anche di disorveglianza deve essere insomma istituito anche perché bisogna definire una serie di criteri le percentuali per i punti individuare i punti per gli assegnatari perché adesso l'Unione Europea mentre prima non poneva condizioni sui progetti ora dice che ogni progetto deve avere una soglia minima deve raggiungere un minimo punteggio quindi ci sarà un lavoro maggiore da parte degli uffici regionali però comunque insomma è il momento di continuare a concentrare l'energia su questo progetto perché io credo che nei prossimi anni potrà dare veramente delle risposte importanti su questo territorio quindi domani cominciamo a calendarizzare con l'aiuto di tutti questa prima commissione la terza commissione e poi del presidente degli emendamenti al disegno di legge numero uno disposizione di modifica norme di carattere finanziario la terza commissione del Fondo speciale di regione della finanziaria è anche iniziata di un'attività di un'attività di un'attività dei sottopi di un'attività ok è il mio di richiesta di gonfalone e poi va bene l'azione dell'amministratore una cerimonia e commemorazione caduti tutte le guerre il 2 novembre 2015 in orario ancora da definire presso un cimitero di staglieno e invece l'altra è mercoledì 4 novembre sempre in orario da definire presso il monumento e cadute di piazza della vittoria giornata dell'unità nazionale del decorato e perso delle forze armate quindi qua anche l'altra che ci vengono ora se non abbiamo altro dichiariamo chiusi i lavori di questa zona con soddisfazione di grande abbiamo approvato qua di rizzi due fondamentale dove esserci tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti